buongiorno l'anno scorso mi prendevano in giro che partivamo presto guardate invece quest'anno la colpa è di mare perché dice che dobbiamo andare prestissimo a dopo a che ora mi hai fatto alzare stamattina? alle 4 grazie ma abbiamo raccolto già una decina a testa sono un po' mangiati però sono belli sodi sono duri sono mangiati alle domande però sono sodi noi continuiamo ci sentiamo dopo raggiungo raccolgo un attimo questo questo qua se lo prende Gaetano qui mi tocca Gaetano ma non si fa sono bellissimi questi li però eh sono bellissimi questi due vieni fratello vieni qua eh eh mamma mia bello fresco ecco raccogliali e poi li puliamo pure il figlio è bello eh sono sodi sono buoni sono molti mangiucchiati dalle lumache però sono belle porcina va di cavolo la bella wow 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 Tutti mangiati Maio, questo è sottomisuro, questo venga a lei Sottomisuro? Certo, raccogli pure l'altro, fammi vedere com'è Chi è più bella? Il meritevole di foto di lui Facciamo una ripresa cinematografica Oh, qua l'anno scorso pure i tuoi, lo sai? Guarda il quattro ciclino, lui ci fai dietro a vicino Mario, tieni Sì? Sì? Mamma mia Mamma mia Come si chiamano questi fungo? Vorrei tu? Amabili Ahahah Erius? No Helicotterus Bravo, Helicotterus Che volano? Questo è una tagliadella O un risotto Mamma mia Sano 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 Ah, bravo Mamma mia E tu mi fai il plazzo di Duga Grazie Mario No Oh, l'omino di continua Mamma mia Mamma mia Che è su? Guardi la bella Bella Ma pure che sto qua, eh Mamma mia Che ti sa che è dentro qua? Non sta venendo l'omino vicino Oggi che sei? Umino DPM Stiamo facendo la pubblicità Hanguk 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 va meglio Hanguk i coreani Chi sono i porcini coreani, eh? Sono picentini Bebe A dopo A dopo Ci siamo spostati in un'altra zona Mario ha detto L'accoglienza Non è male E infatti Direi ... Mario! Bello! Vai! 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 Vieni! Vieni! Cucu! Cucu! Titi! Cici raccogli! Cucu! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia, che fanno? I porcini, dei piccincini! Vieni, c'è una macchina coppa! Guardate che bella è quella! Mamma mia! Questo è spettacolare! Ma questo è bello! Chi si guarda qua? Tieni, Mario! Tieni, Mario! Mario! Mamma mia! Doppietta! Che doppietta! Mamma mia, bellissimi! Mario, raccoglili un attimo, perché a me mi tremano le mani! Mi tremano le mani! Mi tremano le mani! Mi tremano le mani! Mamma mia! Aspetta, aspetta! Mamma mia! Belli! Scroc! Che scroc! Mamma mia, fratelli eh! Che spettacolo eh! Quando è così eh! Sono uno spettacolo! Il posto consigliato dall'Omino Michelin! Calma! 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 Ripetissimo! Però... Ne vale la pena! Speriamo che ha fruttificato bene! Speriamo! Zitto! Andiamo avanti! Si continua, si continua! Si continua! Si continua! Si continua! Lasciamo fare... Questo si fa la semento il canno! Si continua! Andiamo avanti! Chi sta? Chi sta? Chi sta? Chi sta? E due! Che è questo cosa Mario? Mario! Oh! Tu! 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 Che è questo cosa Mario? Una catozza! Una catozza! Bello! Quattro luglio! Quattro luglio! Stamattina stiamo trovando dei funghi veramente belli! Veramente belli! Ecco! Ok! Continuiamo qua! Questo qua! Gli altri due in mani! Fari! Che è tirma? Fai dietro il porcino! Altro! Altro! Altro due qua vedi! Eh! Stamattina da là eh! Questo qua dietro! Certo! Certo! E qui! Vi viene passato con i ragazze! Està sempre a pulire! a raccogliere a pulire ma è buono almeno no è tutto mangiato che ti fai qua per caro però eh ma ce lo sa e ancora qua pure sei passato Mario qua pure sei passato ah no qua no è bello questo è un bel mascuttiello allo oggi come è andato da passaggiare è andato proprio benissimo 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 se vi affacciate un attimo vi affacciate un attimo vedete anche voi che è andato proprio bene 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 fratelli bene no alcuni sono veramente belli altri un po' maggiocchiati dalle lumache comunque sono tutti buoni adesso continuiamo eh la batteria si sta scaricando quindi penso non riprenderemo più però ce la conserviamo per dopo dai ciao ciao